Da quanto tempo è nella nostra azienda? Da circa due anni Si trova bene? E' soddisfatta del ruolo che le è stato assegnato? Fabio, puoi abbassare il volume per favore? Aspetta un secondo, amore Sto per superare l'ultimo livello, non posso distrarmi Brutto, ma scazzone che non sei altro Amore, posso spiegarti? Non è come sembra Si è rotto Non è come sembra